Da San Michele al Tagliamento, una domenica alternativa per gli appartenenti alla Federcaccia del Comune stesso. Infatti domenica 6 aprile la sezione Federcaccia del Comune di San Michele ha organizzato la pulizia e raccolta di rifiuti di vario genere nei territori paludosi del Comune. Armati questa volta di contenitori e ramazze, 40 cacciatori hanno ripulito una zona di grande pregio ambientale che si snoda tra la Litoranea, il Merlo, le Zumelle ed il Canal dei Lovi. Il grande quantitativo dei rifiuti è stato poi smaltito grazie anche alla collaborazione dell'Asvo. Il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, a nome dell'amministrazione comunale ha elogiato i cacciatori per il grande impegno e la sensibilità dimostrati.